La Nazionale Paralimpica di ciclismo, il ritiro a Francavilla al mare per la sesta volta, ormai l'Abruzzo per Paola Desi è diventata la casa dell'Italia. Sì, l'Abruzzo è la casa dell'Italia, la casa della nazionale perché ormai in Abruzzo, tra Francavilla, Rovere, Pineto, ormai è sede fissa ogni anno, quindi la preparazione avviene sempre qui, parte sempre da qui e siamo sempre molto contenti perché l'ospitalità è sempre eccezionale. Io ringrazio infinitamente i comuni, le amministrazioni, in questo caso Francavilla, che ci permettono anche di svolgere questi eventi con il loro supporto. Diciamo che prima di Tokyo abbiamo Coppe del Mondo e Campionati del Mondo, Tokyo ci sarà a fine agosto, è stato rinviato lo scorso anno a causa, come sappiamo, pandemia, però adesso cerchiamo di guardare avanti e soprattutto di fare bene. Ci sono tre abruzzesi nella nazionale paralimpica, oltre a Pierpaolo Desi? Sì, c'è Ivano Pizzi e Emma Marcelli, il tandem è bello conoscere già, quindi con Riccardo Panizza sicuramente faranno belle cose, per quanto riguarda Marcelli, naturalmente è entrata da poco in nazionale e stanno valutando il suo livello, a che punto si trova. Sono veramente tanti anni, ogni tanto mi metto a contarli e ne sono veramente tanti. Io finché sto bene mi rendo conto di essere ancora competitivo, lotto per dare qualcosa a questa maglia perché è molto importante. Un giorno spero, quando smetterò di correre in bicicletta, di dare comunque un supporto a questo ambiente perché lo merita, in quanto per me è stato di fondamentale importanza.